Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi a grandissima richiesta vi porto una gara di pesca al colpo Gara di pesca al colpo molto particolare che poi vedremo E dunque ragazzi direi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Inviate il vostro... no, inviate questo video ai vostri amici, cugini, parenti E tutti quelli che volete E dunque date un'occhiata qua sotto in descrizione che c'è qualcosina di interessante da guardare Dunque andate qua sotto in descrizione che c'è qualcosina di interessante da guardare E direi di non perdere tutto il tempo e via con il video E direi di non perdere tutto 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 il video Come avrete letto dal titolo non è stata una gara semplicissima Sono partito pesante, ho fatto un'ottima pasturazione Anche bella precisa dovrei dire E sono partito pesante in modo da stare attaccato al fondo Però ho visto delle mangiatine Ed erano veramente piccole E quindi ho preferito alleggerire poi E cercando qualche mangiata Sperando di riuscire a vedere meglio avendo meno peso Altra cosa che mi sono accorto tardi È che il livello dell'acqua si alzava molto velocemente Cioè ogni 5 minuti dovevi alzare il realeggiante Che mi sono accorto un po' tardi in effetti Dunque dopo qualche piccola mangiatina Ma proprio lieve di qualche pesciolino Provo a alleggerire quindi Che mi ha un'ottima Che mi ha detto Che mi ha detto Che mi ha detto Che mi ha detto va fan cool va fan cool Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Bene, come ho non detto, in pratica cosa è successo? I pesci hanno mangiato la prima ora, infatti il primo pesce che ho preso è stato circa 30 minuti di inizio, provando, riprovando, con piccole mangiate, anche male, e dove avete visto che ho tirato sulla cannella c'era un pesce. L'ho agganciato, il filo ha agganciato la cannella e lui si è slamato e tirando su, è venuta sulla cannella. E adesso vi spiego bene. Hanno mangiato solo quella mezz'ora là, praticamente per tutti. Le altre due ore di gara praticamente sono state vuote. Cioè, potevi buttare di tutto, non ho visto, dopo questo pesce avrò visto due toccatine, se non mi ricordo male, ma proprio roba che il pesce è arrivato e ha sfiorato il filo là per caso. Niente di eccezionale, c'è chi ha provato in bolognese, c'è, potevi fare qualsiasi cosa, il pesce non c'era. Infatti, con quel singolo pesciolino, attenzione, ho fatto il quinto con un triotto da 80 grammi e il primo vinceva con 400 grammi. Cioè, se prendevo il pesce che mi si è slamato, facevo tipo terzo, secondo, eh, di settore. Contando che eravamo anche con il tecnico, c'erano tre cappotti nel mio settore. Uno con un alborello, uno con due alborelle e tutto il resto era cappotto, cappotto. E, tra l'altro, chi ha vinto la gara era quello di fianco a me, alla mia sinistra. È stato bello. Beh, lui ha fatto una bella pescata, devo dire, cioè, ha fatto 400 grammi, però almeno sarei goduta all'inizio, ha fatto un po' di pesce là, tac, 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 e... Beato lui, se... Almeno sarei goduta un po' quella giornata. E, veramente, io non so che dire, cioè, la pescata più triste che abbia mai fatto. Cioè, un pesce in tre ore. Un pesce. Un pesce. E, ragazzi, così è la pesca, così è andata questa gara. Boh, continuerò, non lo so. Dunque... Basta. Questo video finisce così. Basta. 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 Basta.